Vai mie, non ci vuole la visione? Allora, io ti garantito, quando tu ti cambiato di rapporto differenziale, sin no a bene, tu che ti imparto 700 mila chilometri, io me lo dico, però vuoi cambiato di rapporto? Io ti ho chiamato gli amici meno, tu stai spostato troppo, io ti ho... ah troppo! allora tu vuoi farti prima non ti cambia la faccia e quindi sono un po' la condizione no 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 ma io non ceco, lo tengo stampato lo stampato di steno ceco un ceco, un ceco la ceca, la ceca il tassetto la ceca vedi a chi sta, senti eh come here man come here man, check this out i wanna just show you one thing man let me talk i know exactly i know exactly what you're talking about i know that when i put it in the back come here man, and i put it 322 i know i know it's gonna work better, i know but it's still too much for me i don't want a super hot hold on because it's gonna solve too much on you check this out, come here let me show you, let me show you let me show you alright, look what he's got look what Lambranco's got come here man, check this out ok fine the stove has 3000 RTM 3000 3000 why don't you take a ride with me come here, come here allora la macchina idea non, con il rapporto che c'hai non si può muovere subito è un rapporto a lungo ok giusto? allora tu c'hai tutto può partire subito però non ti ha più supporto di me è differenziale quando io accorcerò il differenziale eh sarà migliore ma no ma no ma no non lo ha più no no più un mone sai che ti vuoi troppo di noi no, io voglio metti a Saturday night io voglio un scholar 1800 e tu vuoi pure che fa vendi kilomini al vidro of course forte ma è una paura di molià che non porta a piedra Grazie a tutti.